L'incontro ecumenico diocesano della parrocchia San Silvestro e Barbara di Caolonia Marina ha concluso la settimana per l'Unità dei Cristiani della Locride, una celebrazione a più voci uniti nella fede in Gesù Cristo per invocare lo Spirito Santo per il dono della piena unità, preseduta dal Vescovo di Locri, Gerace, Monsignor Francesco Liva, dal Pastore Pino Imperitura della Chiesa Evangelica della Riconciliazione e dal Delegato della Chiesa Ortodossa del Monastero San Giovanni Teristis di Bivongi, Simeone. Il tema di quest'anno è stato l'appello ad essere veramente giusti, non a una giustizia teorica o formale quindi, né tantomeno legalista, ma ad assumere l'impegno di una testimonianza comune che sappia essere profezia di una società dove il bene vinca veramente sul male, che riesca a disinnescare i meccanismi in cui si inceppa l'amore verso ogni prossimo. La divisione, ha osservato nella sua riflessione Monsignor Oliva, è una grande ferita che offende Dio. Usciamo dalle nostre chiese e invocato, uniti per portare il Vangelo, l'annuncio della giustizia, quale fondamento della verità. L'unità ancora osservato va pensata nella diversità e con esplicito riferimento al popolo dell'immigrazione, a quell'incontro che ci consente di accogliere il diverso in una comunione inclusiva, guardando le diversità come una ricchezza. In precedenza il pastore in peritura aveva osservato che non siamo stati fatti in copia, Dio ha creato l'unicità nella diversità, una diversità di carismi, dove lo Spirito Santo è il ministro ecumenico. L'unità dei cristiani rientra nei canoni del concilio ecumenico vaticano, il che ha fatto un punto fermo di ricerca e di studio, il cammino per il dialogo tra le religioni, le culture, i popoli e illuminati, perché Dio è padre di ogni uomo. Sono ormai lontani, dimenticati, gli anni in cui, nella Locride, con l'arrivo del pastore della chiesa evangelica Ernesto Bretscher, venivano alzate dalle chiese cattoliche barriere ideologiche e culturali, finalizzati a frenare il proselitismo, che richiamava sempre più consensi alla sua predicazione. Lo testimonia la significativa accensione del cero dell'unità, acceso contemporaneamente dai tre pastori delle chiese cristiane della Locride. Perché ognuno ha qualcosa da imparare dall'altro, i cristiani hanno il dovere di condividere perché il pregiudizio divide.